difetti di costruzione per la denuncia c'è tempo un anno dalla data della perizia pubblicato dalla lista immobiliare punto it il 2 aprile 2019 sezione normative se volete comunicare o denunciare i difetti di costruzione del vostro immobile in condominio occhio le tempistiche perché il termine di un anno per la denuncia non decorre dalla data dell'assemblea condominiale ma dalla perizia effettuata l'articolo 1669 del codice civile prevede la denuncia del periodo di rovina o di gravi difetti di costruzione dell'immobile e fissa il termine di un anno per tale denuncia tale termine però va riferito al momento in cui il committente prende conoscenza piena dei difetti di costruzione e non da eventuali date di assemblee condominiali il problema è stato recente affrontato dalla cassazione che ha discusso dell'identificazione degli elementi conoscitivi necessari per una denuncia di tali tipi i vizi di costruzione o difetti di costruzione di immobili che si manifestano entro dieci anni dal compimento vanno quindi denunciati dal committente entro un anno dalla scoperta e il diritto di risarcimento è previsto entro un anno dalla denuncia non valgono più quindi termini che hanno per riferimento la data di eventuali assemblee che attestino i danni per far sorgere una responsabilità dell'appaltatore o del costruttore nei confronti dell'acquirente occorre che questo abbia piena consapevolezza dei difetti di costruzione e delle cause e quindi occorre una perizia da questa data il termine per presentare denuncia quindi un anno posticipato in caso di necessità di altre perizie tecniche